Riformare per ripartire, destinazione Abruzzo. Questo è il tema dell'incontro sulle opportunità del turismo nella nostra regione, promosso da Fratelli d'Italia. Purtroppo la politica nazionale non ci aiuta assolutamente. Il discorso del coprifuoco per delle strutture che si dedicano all'ospitalità, come le nostre, quelle di Faita, Federcamping, Campeggi e Villaggi, piuttosto che gli alberghi, il discorso del coprifuoco lascia un po' il tempo che trova, perché comunque le persone vengono ospitate da noi, certo che se non possono uscire creiamo un disagio, ma non è così grande come può essere per coloro che invece fruiscono in maniera mordi e fuggi la costa, non so, piuttosto che i lidi balneari. Il problema più grosso che abbiamo sentito e continuiamo ad accusare è quello dell'Italia dei colori, è una sorta di Italia preunitare. Adesso è vero, siamo tutti gialli, possiamo spostarci liberamente, anche se gli indici RT sono cambiati, ma abbiamo sempre questa spada di Damo che ci pende sulla testa, che da un momento all'altro potrebbero cambiare i colori delle regioni e diventa più farraginoso potersi muovere, perché comunque sappiamo benissimo che il Green Pass prevede delle limitazioni, delle peculiarità ben precise. Un altro problema che stiamo accusando tantissimo, ve lo dico, come operatore sul campo è quello ad esempio del richiamo delle vaccinazioni. Se ne fa un gran parlare, ma oggi come oggi, e siamo ormai al 20 di maggio, quindi la stagione per noi è già iniziata, noi stiamo già iniziando a programmare il 2022, figuratevi un po', e risulta essere veramente un freno notevole alle prenotazioni, perché la gente ovviamente è spaesata, perché soprattutto dovrà fare i richiami più o meno a metà, fine luglio, e quindi ha difficoltà a prenotare perché non sa poi se deve tornare, non deve tornare, cosa deve fare, insomma. Sicuramente è un grosso limite, sono tutte cose che dovrebbero essere considerate. Si doveva già pensare che il turismo avrebbe avuto bisogno di un sostegno effettivo, soprattutto nelle riprogrammazioni. Adesso stiamo parlando delle vaccinazioni che si possano fare anche fuori dalla residenza, perché se devo andare in vacanza e devo fare la seconda dose, ecco, questo mi impedisce di poterla fare questa seconda dose andando nella vacanza. Quindi sono tutta una serie di mancanze di programmazione e di visioni che purtroppo stiamo scontando. E siccome il sistema del turismo, la filiera del turismo, alberghi, ristoranti, commercio, è una delle più importanti in Italia, temiamo che questo crei un danno ulteriore.